ROTTO VOICE super classifica show eccolo come rutti e siamo qui come ogni venerdì un po' più di lì che di qui rotto ma che rima è questa? la rima non è un'assonanza di silabe si ma dove le ha imparate ste parole? l'assonanza di silabe è uno stato d'anima quella era l'estate rotto qua un altro po' è finito ottobre e ora per tutti quelli che ottobre è come ferragosto noi andiamo avanti se ci siete dite ci siamo ci siamo se io vi dico voi mi dite se io vi dico voi mi dite se io vi dico voi mi dite ora vediamo se siete ignoranti proviamo con le consonanti no le consonanti se io vi dico voi mi dite tanto non indoviniamo mai proviamo con la f con la f f io vi dico c e voi dovete dire siamo ci siamo ci siamo ci siamo una posizione un evergreen della canzone italiana una canzone che sicuramente conosce benissimo Leandro perché? visto che quelle tre volte all'anno che guida la macchina i carabinieri lo fermano e gli fanno l'alcol è vero mille giorni senza potente parodia di che babbuccia del brano mille giorni di Teddy May di Claudio Boglione bravo mi piace bravo questo è Leandro in macchina let's go chi mi accompagnerà da te mi porterà in palestra al cinema o all'ipercop come faccio quando piove sei tu solo io se il fatto mi sta male come vado fuori a cena colpa di quella sirena si fermi a costi ed io non avevo la cintura è birra mi piace di andare pure i fari spenti in piedi la notte le mamme taranno rotte è bravo questo eh che la gente dice a me tutti insieme mille giorni senza patente qualcuno mi deve spiegare il perché con una voce così questo ragazzo canta solo queste stronzate ce la potevamo anche noi se in caso mai voi riuscite a scoprirlo mandatemi un piccione viaggiatore ubriaco ma cos'è? comunque continuiamo al secondo posto saltata fuori dai talent dove forse era meglio che ci rimaneva per altri dieci lunghi anni abbiamo Emma Marrone ha detto il cui brano calore è stato giustamente riarrangiato da Emma Caccato Lucazzo nooo ma cos'è? il cioprene speciale per il nome sentiamo dai sentiamo dai sentiamo dai cosa succede se con lo scambetto io ti lascio capito? lo scambetto? dai fammi uscire per andare offri la cena offri la cena un ingozzare fino a farmi scoppiare voglio le cose ma no voglio le cose con il limone con il limone ma è un po' stonato o sbaglio? aspetti quelle di Bari quelle di Bari quelle di Bari sono le più buone no brava brava chi c'è la classifica più onesta d'Italia quella dove si premia solo il talento quello pura giusto al primo posto ancora per la terza settimana di seguito quando la classe non è acqua ma non è neanche un mojito a qualcuno piace presto ecco a voi la vitola timbutu fashion siamo primi raccomandati e culattoni let's go basta un colpo di telefono e la vitola non c'è più la vitola non c'è più la vitola non c'è più basta un colpo di telefono e la vitola non c'è più ciao la vitola timbutu ricorda per la classifica di rotto voice non era mai successo che una song restasse al timone per tre settimane di seguito è vero rotto voice vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana ciao rotto voice ciao rotto il nome di fatto orutto m2o un mondo allo stato puro io 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 Grazie a tutti.